Ragazzi, volevo darvi degli aggiornamenti su Romeo che sta crescendo per ora bello forte Ecco, lo vedo in un quadro da vicino Così è diventato bello, bello grande questo gattino Però morde, morde, morde Eh, non si morde Allora, lì abbiamo comprato il collarino Che è questo E poi lui gioca con quest'affare aggiornata e miagola Perché vuole andare fuori, però non ci puoi andare fuori E non ha ancora fatto il vaccino Poi tra sei mesi, lì si leva Si leva l'affare Sapete cosa Quindi prepara Speramente lui è un pesce Vabbè, no, vi voglio dare questo piccolo aggiornamento Che era da un po' che non facevo video Tra poco E poi da un mesetto Si organizzerà per andare a Vada Vada a vedere dei bunker Così almeno si Si Scusa, si doveva andare Un paio di mesi fa Però non ci si è potuto andare Perché Eravamo Cioè era troppo presto Era gennaio E non si doveva fare Tipo 9 km a piedi E quindi non l'abbiamo fatta E siamo andati alle gorette Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao